Bagnamitrano per Ciac con Francesca Comencini, regista dei primi quattro episodi di Django, la serie originale Sky e anche direttrice artistica. Come ci si rapporta ad un genere così importante in una coproduzione che raccoglie una parte di storia del cinema riguardo il western, la storia del cinema italiano e storia del cinema americano. Ci devi credere perché il western è come una favola nera per adulti, però è una favola quindi devi amare il western, devi credere ai suoi codici, all'epica e anche alle sue regole. E quindi a me piaceva il western e quindi devi credere a questo gioco. E poi secondo me con molta audacia e anche un po' di incoscienza, forse anche di ingenuità e cercando di avere un po' di quella libertà e di quella follia che hanno avuto anche quei registi italiani quando si sono impossessati di un genere che era eminentemente americano. Il personaggio di Django ha avuto varie declinazioni, sempre però al centro di un amore, c'è un amore importante nella sua vita. Questa volta però è un amore paterno più che altro. Ecco, come mai la scelta di questo cambiamento? Anche nel discorso della diversità, ecco appunto, in questo caso lui si relaziona con tantissime razze, questa volta c'è veramente una grandissima diversità all'interno della sua storia. Come il Django originale, anche il nostro Django è in cerca di vendetta. All'inizio si pensa che questo sia il suo motore. Poi si capisce durante il corso della serie che c'è un sentimento d'amore, una saga familiare che è quello che lui sta cercando. Lui sta cercando di riparare, questo mi è piaciuto più di tutto, di questo personaggio e un po' di tutti i personaggi. La possibilità di riparare quando qualcosa è rotto, qualcosa è distrutto, quando non si può più credere e anche quando si sono commessi degli errori che lui ha commesso, c'è una possibilità di riparazione? È un po' la domanda con la quale il nostro Django è alle prese e lui cerca disperatamente questa forma di riparazione d'amore. E questo l'ho trovato molto molto interessante e qualcosa che a me mi ha fatto molto affezionare a lui. Il tema della diversità è un tema molto presente nella serie perché è molto presente nel mondo, nell'umanità e nella società. E finalmente se ne parla e finalmente vengono rappresentate piano piano queste diversità. E agli sceneggiatori, premetto che tutto questo è stato scritto da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravalli, io ho ricevuto questa sceneggiatura, ma l'ho amata per questi motivi, perché anche con la cornice del genere, del western, della speranza di intrattenere, di divertire e anche di stupire, di fare qualcosa che abbia un'epica e un aspetto visivo attraente, c'è quella di raccontare un mondo che contiene molti mondi, molte voci e per fortuna. C'è qualcosa che avrebbe voluto recuperare dall'originale di Corbucci e che non è stato recuperato o viceversa qualcosa che invece secondo lei è stato meglio valorizzato nella serie? L'originale di Corbucci è un capolavoro e niente può essere fatto meglio da noi. C'è una libertà e una umile speranza di aver ereditato un po' di quel coraggio e di quella follia. Non aveva senso provare a rifare qualcosa. Per me quello che ho cercato di fare è di dire voglio provare a avere quel coraggio e buttarmi parlando dell'oggi e amando il western.